Ciao amici, bentornati a un nuovo episodio di CERTA La tra l'altro vi ho fatto vedere Fox McCloud Ebbene, passiamo a un altro personaggio inventato da Miyamoto Ha dato il via a una leggenda che continua ancora oggi E soprattutto è anche la saga preferita del grandatore Robin Williams Chi è? Oggi tornando a parlare di personaggi dei videogiochi Ve ne voglio mostrare uno che è stato creato anche stesso da Miyamoto Ma che sicuramente molti di voi avrete sentito parlare Si tratta di Link, protagonista della serie La leggenda di Zelda Com'è nato questo personaggio? Beh, il personaggio viene inventato dallo stesso Shigeru Miyamoto Grande creatore della serie di Mario Si pensa, secondo una sua intervista, che il personaggio e la serie Sono nati in base alle esperienze esplorative che faceva Miyamoto quando era bambino In pratica, visto che lui si avventurava dentro caverne E anche addirittura foreste che si trovavano nell'area di Chiotto Ebbene, questo è stato il suo spunto per creare il suo grande gioco Zelda Uscito nel 1987 Ma se non lo sapete, i nomi di Zelda e Link non sono nati così per caso Il nome di Zelda è stato preso dalla figlia di Francis Scott Fitzgerald In pratica, Zelda Seier Fitzgerald Che in pratica era uno scrittore e sceneggiatore statunitense per romanzi E il personaggio con il nome di Link è nato semplicemente utilizzando il nome di collegamento In pratica, inteso un collegamento tra noi e il personaggio stesso Quindi non è proprio un vero e proprio nome grandioso Ovviamente, quando uscì il primo episodio, nel 1987, su NES Ma ancora prima su Famicom nel 1986 Fu un grande successo E questo gioco portò dei veri e propri cambiamenti In pratica, elementi da gioco RPG, azione, hack e slash E longevità praticamente infinita Sempre la stessa storia però Una storia che manterrà costante in quasi tutti i capitoli In pratica, la principessa Zelda Rapita dal cattivone di turno, il mago Ganon E Link che deve salvarla Ovviamente Ma dopo questo primo capitolo Ci saranno una lunga serie di seguiti Ci sarà Zelda 2 The Adventure of Link Rilasciato per il NES proprio nell'87 Questo gioco venne purtroppo snobato Perché ha abbandonato quasi del tutto La sezione esplorativa vista dall'alto Come nel primo Zelda Ma in realtà Sembra quasi un gioco stile Final Fantasy Ma del resto Questo è considerato da molti fan Come un episodio sottovalutato Che bisogna rivalutare Poi con l'arrivo del Super Nintendo Arrivò Legend of Zelda A Link to the Past Episodio fantastico Portato alla grande sulle console a 16-bit E considerato da tanti come L'episodio migliore delle console a 16-bit Ha avuto anche un suo remake nel 2003 Sul Game Boy Advance Poi c'è stato anche Per Game Boy Legend of Zelda A Link's Awakening Episodio che è stato Portato certo sul primo Game Boy tradizionale nel 93 E' riportato come remake Nel 98 sul Game Boy Color Come Legend of Zelda A Link's Awakening DX Che a differenza del primo Metteva una storia un pochino diversa E l'aggiunta dei colori Questa modalità di gioco è proprio come L'episodio per Super Nintendo Solo che l'hanno un pochettino strozzato Poi con l'arrivo del Nintendo 64 Ci fu Uno degli episodi più belli mai realizzati Legend of Zelda Ocarina of Time E' considerato Dall'Accademia di Arti e Scienze della Gran Bretagna Come l'episodio Più bello mai rilasciato E questo gioco Aveva L'ambientazione certamente 3D Questo era più uno spin off ambientato Prima del primo Zelda E soprattutto Storia ancora più bella Quest ancora più difficile da risolvere E divertimento sicuramente assicurato Questo episodio era certamente lungo Su cartuccia Ma tenete presente che Questo titolo è stato anche addirittura Riportato come remake 3D Per il Nintendo 3DS E non aggiungeva niente di che Era semplicemente lo stesso gioco per Nintendo 64 Semplicemente riamodernato Poi è stato anche addirittura riportato come remake per Gamecube Ma semplicemente quella era una ROM emulata E basta Niente di più Poi ci fu anche per Nintendo 64 Il secondo grandioso episodio Per Nintendo 64 Majora's Mask L'episodio più oscuro della serie Che questo Ha quasi raggiunto Lo stesso livello di perfezione Di Ocarina of Time Solo che Questo titolo Fu uno De quelli che Recessitava Delle expansion pack Faceva vedere Più personaggi su schermo E la grafica Era certamente migliore Questo titolo Purtroppo Anche se era bellissimo Come Ocarina of Time Molti giocatori Soprattutto quelli moderni Non se lo ricordano Ed è un peccato Ma con La fine Del Nintendo 64 Uscirono anche altri due episodi Semplicemente per Gameboy Color Ci furono Oracle of Ages Che Questo è Un capitolo a parte Che era simile All'episodio per Gameboy Advance Soltanto che aggiungeva Qualcosa di più Ma ci fu anche addirittura Una sua controparte Oracle of Seasons Che è uscito Nello stesso identico periodo E Bisogna tenere presente Che questo Anche questo Oracle of Seasons Non è che aggiungeva Qualcosa di nuovo Rispetto a quello precedente Aggiungeva Semmai una grafica migliore E anche Qualche elemento Diverso nel gameplay Ma sono più o meno Lo stesso identico gioco Poi su Gameboy Advance C'è stato Force Wars Episodio Che Venne realizzato Non soltanto da Nintendo Ma anche dalla Capcom Questo gioco Riprende molti Gli elementi di A Link to the Past Solo che è stato fatto Un omaggio All'eprimo episodio Della serie E poteva anche addirittura Supportare Il multiplayer Poi c'è stato anche Wind Waker Un episodio Rilasciato Sul Gamecube Nel 2002 E fu un episodio Particolare Perché Aggiungeva 49 mondi Da esplorare E soprattutto Tutto realizzato In cel shading Per farci sembrare Tutto quello che vediamo Un cartone animato Questo è stato Un episodio Che seguiva Gli eventi Dopo Ocarina of Time Ed era fantastico All'epoca Fu un po' Troppo snobato Dal pubblico Ma adesso È stato ampliamente Rivalutato Dalla critica E dal pubblico stesso E infatti Questo gioco Vale la pena provare Ma se non lo sapete Stanno per fare Un remake Per la Wii U Semplicemente in HD Che aggiunge Una grafica migliore Qualche elemento nuovo Nel gameplay Ma nel resto È sempre lo stesso gioco Poi su Gamecube Uscirà The Force Wars Adventure Che anche questo È un altro episodio Della serie di Zelda Realizzato in simile C'è il shading Ovviamente E anche questo Fu purtroppo Un episodio Che venne snobato Aveva due modalità Di gioco Quello singolo E giocatore Quella singolo Era molto simile A quello di Wind Waker Quello multigiocatore Invece si giocava In una sorta di Arena multiplayer Un po' quasi come In Unreal Tournament Questo era un gioco Molto fantastico E purtroppo E purtroppo Oggi è considerato Il più snobato Di tutti Poi con l'arrivo Del Game Boy Advance Anche se era già arrivato Prima È uscito un altro capitolo Zelda The Minish Cap Questo gioco Sarebbe l'undicesimo Della serie Ovviamente portava Qualche elemento Nuovo Nella giocabilità In esempio Introduceva La razza Di Minish Una sorta di Nuova razza Che Era Che erano Molto piccoli Abitavano Sulla terra Milioni di anni Prima Della Invasione Dei cattivoni E soprattutto Dell'arrivo Del cattivo Ganon Questo episodio È molto bello Poi con l'arrivo Del Wii Arrivò Twilight Princess Che venne rilasciato Anche prima Su Gamecube Ma questo episodio È considerato Allora E forse anche oggi Uno degli episodi Migliori Della serie Proprio lungo Bello E soprattutto Difficilissimo Ancora più di Ocarina of Time E soprattutto È stato anche Addirittura Premiato Dalla rivista Ufficiale Nintendo Col voto 1010 Anche addirittura La Nintendo Power L'ha classificata Al quarto posto Come il gioco Più bello Della serie Di Zelda Poi uscì Anche addirittura Per Nintendo DS Phantom Hourglass Che è un episodio Un po' particolare Che aveva Misto tra La grafica 3D E il cell shading Satoru Rewata L'ha Dichiarato Come un gioco Decente Ma niente di Spettacolare Ed è ambientato Proprio dopo Wind Waker Questo gioco Era molto più Esplorativo E molto più Divertente Sicuramente Di Wind Waker Poi c'è stato Anche sempre per DS Spirit Treks Un episodio Un po' particolare In cui Il nostro Protagonista Si muove All'interno Del mondo Di Rewl Con un treno Che sostituisce La barca Che utilizzavamo Nell'episodio Precedente Questa Era un'idea Un po' simpatica Originale E Questo gioco Venne premiato Anche addirittura Con un 91% Anch'esso Questo gioco È stato realizzato In cell shading Poi è uscito Per Nintendo Wii Legend of Zelda Skyward Sword Episodio Che è considerato Migliore Di qualunque Episodio Rilasciato Sul Nintendo Wii Ad esempio Questo riprendeva Un pochettino Gli elementi Di Twilight Princess È vero È uscito Certamente In occasione Di 25 anni Della serie E aveva Un sistema Di controllo Del Nintendo Wii Certamente Migliorato La storia Era epica Il divertimento Qua era Fantastico E Soprattutto Per chi è che Si avvicinava Per la prima volta Alla serie Questo gioco Era ottimo Per cercare Di conoscere Più a fondo La serie Con questo Purtroppo È finita L'avventura Di Zelda Per quanto riguarda Una serie Ufficiale Ma non dovete Preoccuparvi Perché sta per Arrivare Un nuovo episodio Che sarà sviluppato Per Nintendo 3D Poi considerando Gli spin off Sono usciti Dei titoli Che sono Purtroppo Indecenti Sono usciti Freshly Pickied Tingles Rosy Rapland Una sorta di Giochino Un po' Particolare Brutto Che potrebbe Non piacere O piacere A tutti voi Qua soltanto Che Link Non è il protagonista Poi è uscito Link's Crossbow Training Che è una sorta Di gioco sportivo Venduto insieme Al Wii Zapper Cioè Una pistola In pratica Questo era un gioco Adatto a tutta la famiglia Poi Il personaggio Di Link È comparso anche In episodi Fuori dalla serie Ufficiale di Zelda Per CD-i Erano giochi Che avevano Sì la licenza Ufficiale Nintendo Ma nessuno Li considera Sono I bruttissimi Link Faces of Evil Zelda Wand of Gamelon E Zelda's Adventure Tra episodi che fanno Veramente schifo In tutto e per tutto Nel gameplay Nella giocabilità Ma soprattutto I giochi vengono ricordati Per le penosissime sequenze Video Che venivano messe Durante la partita Penose Poi Il personaggio Comparirà anche Addirittura Come cameo In giochi come Soul Calibur 2 Soltanto nel Gamecube O in Super Smash Bros Per Nintendo 64 O anche in Super Smash Bros Melee E anche in Super Smash Bros Brawl Insomma Il personaggio Ha avuto Un'avventura Videoludica Fantastica Se dobbiamo vedere Il mercato promozionale Che hanno mosso Intorno alla serie di Zelda Ebbene E non è che Hanno rilasciato poco Nel corso degli anni Sono stati rilasciati Dei manga Dedicati Alla serie di Zelda Uno è stato rilasciato Nell'89 Chiamato Legend of Zelda Non fedele al videogioco Poi c'è Legend of Zelda 2 Poi anche addirittura Per Zelda Link Of The Past Zelda Link's Awakening Eccetera eccetera Insomma Hanno rilasciato Un sacco di fumetti E volumi Che raccontavano Alcuni retroscena Della storia di Zelda Ma negli anni 80 Anzi Verso la fine degli anni 80 Hanno rilasciato Un cartone animato Chiamato semplicemente Zelda Oppure conosciuto Come da noi Un regno incantato Per Zelda Una serie Che era composta Da una sessantina Di episodi In cui c'è Ganon Che vuole impossessarsi Della triforza Della saggezza Posseduta da Zelda E in pratica Link Ovviamente deve certamente Trovare la triforza del potere Già in possesso di Ganon E certamente Salvare il mondo Una storia Un giorno Questo cartone Era carino Ma niente di speciale Poi hanno rilasciato Poi hanno rilasciato Anche addirittura Qualche gadget particolare Hanno rilasciato Delle copertine Che Andavano bene Poi hanno rilasciato Anche degli accendini Con rappresentati I simboli Della triforza Poi hanno rilasciato Anche addirittura Qualche pupazzo Ma sono abbastanza rari E poi anche Qualche maglione Felpa Insomma Zelda Hanno puntato più Sul cartone animato E sul manga Non sui veri Propri gadget Quindi che dire amici La serie di Zelda Riscopritela Soprattutto visto che Sta per compiere I 30 anni amici Quindi Vi aspetto Al prossimo servizio E sarà dedicato A un personaggio Che No non ve lo voglio dire Deve essere una sorpresa Altrimenti Vi annoio Cari amici Ci vediamo alla prossima Ciao 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 Zelda Nel tuo regno c'è Tutto quel che piace a me Pace, gioia e saggezza Zelda vai Nel tuo regno incantato Vivrai E felice sarai Nel tuo regno di